Bentornati ragazzi su mi sono sempre chiesto. Prima di iniziare ovviamente farò un piccolo break perché l'argomento che tratteremo oggi sarà molto delicato. Ciao, sono Erz. Ciao, lo sono anch'io. Sì, anche lui. Mi sono sempre chiesto. Vale la pena spendere 1700 euro per un telefono? 1689 per l'esattezza e parliamo quello da 512 giga? Detto poco. Non vi sembra assurdo? Milioni di persone che aspettano con ansia questo dispositivo che forse nemmeno vendendo un rena al mercato nero possono permettersi. Che la cosa più assurda è soprattutto le persone che si lamentano che non hanno soldi e anche il tempo di finire di pagare il loro ultimo dispositivo, Apple, che tornano a farsi le rate per il nuovo dispositivo iPhone XS Max. XS sta per extra stronzi? Perché bisogna essere extra stronzi per comprarsi un device così e poi dire, beh, sono rimasto senza soldi, grazie al cazzo. Per poi farci cosa? L'utilizzo medio di una persona normale che compra un dispositivo è sempre quella di telefonare, mandare messaggi, mandare messaggi vocali, caricare foto, stare su Facebook e indovina un po'? Potete farlo con qualsiasi dispositivo e si vedono chilometri e chilometri di fila all'Apple Store neanche se fosse l'Apple rubata da Eva nell'Eden. Ma sentiamo, cosa ha di diverso questo iPhone XS Max rispetto agli altri? L'iPhone XS Max è 6,5 pollici, quindi un pollice in più. Questo significa che ha una maggiore risoluzione. Quindi mi stai dicendo che andrò in giro con un fottuto tablet poggiato sull'orecchio. C'è anche un miglioramento del Face ID. Ah, c'è la Face ID. Wow, che inutilità. E possiamo scegliere anche tra 64GB, 256GB e adesso 512GB. Ma tu lo sai che 5 iPhone Max fanno una di questa? Sai anche che c'è una fotocamera migliore? Ti permette di sistemare l'apertura anche in post-produzione. Con il prezzo che costa mi dovrebbe fare l'hologramma in 3D alla Star Wars. Visto che con metà del prezzo di questo telefono posso comprarmi una Reflex. La domanda di oggi è... Hai un amico pronto a farsi le nuove errate per acquistare il nuovo iPhone X Max? Se sì, scrivimelo qui sotto con un commento. Lasciatemi un like XS Max. Noi ci vediamo settimana prossima insieme alla piccola Nike con un nuovo video. Sì, non vi preoccupate, stiamo rispondendo al video precedente a tutte le vostre domande. Stiamo girando il video, presto sarà online sempre qui sul nostro canale di YouTube. Ciao! Ciao!